Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto particolare perché sono stato contattato da un'azienda, Together Price, che mi ha proposto una collaborazione che secondo me può essere molto interessante per chi è iscritto a questo canale. Infatti, iscrivendovi gratuitamente a Together Price seguendo il link che troverete qui sotto in descrizione, potrete ammortizzare completamente i costi di iscrizione al Nintendo Switch Online o se non altro risparmiare parecchio, arrivando a pagare un abbonamento annuale solo circa 5€. In questo video quindi vi spiegherò passo passo come funziona e come usufruire della promozione, però prima ci tengo a precisare che seguendo il link della promozione io riceverò una piccola percentuale su ogni iscrizione, ma a voi non cambierà assolutamente nulla. Quindi partiamo! Per chi non lo conoscesse, Together Price è un sito che permette di formare dei gruppi per condividere con facilità gli abbonamenti ai servizi come Spotify, Netflix e ovviamente Nintendo Switch Online. Tramite il passaggio dei soldi su un wallet elettronico, l'admin del gruppo, ovvero chi solitamente crea l'account condiviso e si prende la briga di raccogliere i soldi, non deve più impazzire dietro alle persone per riscuotere le varie quote, perché grazie a Together Price i pagamenti diventano automatizzati. Ma i vantaggi del sito non si fermano soltanto alla gestione dei pagamenti, perché alcuni servizi, come Nintendo Switch Online, permettono la creazione di account famiglia condivisibili anche con estranei. Questo significa che se avete difficoltà a trovare altre persone con cui dividere gli abbonamenti, potete rivolgervi a Together Price per condividere i costi, creando gruppi in qualità di admin dove far entrare altre 7 persone, oppure come joiner, prendendo parte dei gruppi già aperti e con dei posti liberi. L'offerta per voi, ragazzi, è questa. Ogni admin che riuscirà a chiudere un gruppo di condivisione con altri 7 utenti riceverà indietro l'intera quota anticipata, andando ad ottenere gratuitamente l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Vi faccio vedere come funziona. Partendo dal link che vi lascio in descrizione, dovrete innanzitutto effettuare la registrazione inserendo i vostri dati personali, oppure più semplicemente appoggiandovi ai vostri account Google o Facebook. Una volta completata l'iscrizione vi sarà chiesto di scegliere alcuni servizi a cui siete potenzialmente interessati, nel nostro caso Nintendo Switch Online, e poi decidere se diventare joiner oppure admin. Per usufruire dell'offerta dovrete ovviamente prima aver acquistato un abbonamento famiglia a Nintendo Switch Online e utilizzare Together Price per creare un gruppo, quindi dovrete ricoprire il ruolo di admin. Una volta scelto il servizio di riferimento, ovvero Nintendo Switch Online, la creazione del gruppo di condivisione è molto semplice e basterà riempire alcuni parametri. Importante per poter usufruire dell'offerta è quello di impostare il numero di posti liberi a 7. Vi consiglio ovviamente di rendere pubblico il gruppo e se volete anche di inserire un'immagine personalizzata per attirare l'attenzione dei potenziali interessati. Una volta creato il gruppo non vi resterà che aspettare che gli altri utenti entrino a far parte della vostra condivisione e ognuno di essi vi restituirà all'interno del vostro wallet elettronico la sua quota di partecipazione pari a 4,37€. Una volta chiuso il gruppo e quindi ricevute tutte e 7 le restanti quote avrete un credito totale di 30,59€ a fronte di una spesa iniziale di 34,99€. Ma è qui che entra in gioco la promozione. Dopo 30 giorni sarà Together Price a rimborsarvi 4,37€ rimanenti andando a coprire l'ultima quota, ovvero la vostra parte. Avrete così a disposizione l'intera somma versata inizialmente per pagare l'abbonamento e se vorrete potrete trasferire il vostro credito su un conto bancario dopo un periodo di validazione di 25 giorni. Se non disponete di un conto bancario potete associare al vostro wallet anche una carta hype che per i più giovani è la soluzione ottimale. Comunque all'interno del sito troverete una sezione dedicata all'assistenza clienti dove risolvere ogni eventuale dubbio. Quindi ragazzi il mio consiglio è quello di creare un gruppo il più velocemente possibile e iniziare a condividere il link per entrarne a fare parte anche sui vostri profili social perché prima chiuderete il gruppo e prima riceverete il rimborso della spesa iniziale. Inoltre per facilitare ancora di più questo processo di condivisione sto creando sul mio server Discord una sezione apposita proprio per condividere i propri gruppi. Vi lascio anche questo link in descrizione. E se tutto questo vi sembra eccessivamente complicato vi ricordo che c'è la possibilità di partecipare come joiner e unirvi a dei gruppi già esistenti. Unendovi alla condivisione di un altro admin la vostra spesa totale sarà poco più di 5 euro. 5,86 euro per la precisione. Questo perché alla quota di abbonamento dovrete aggiungere 1,49 euro di spese di gestione del sito. In ogni caso capite da soli che il risparmio è comunque molto vantaggioso. Il prezzo pieno di un abbonamento famiglia è di 34,99 euro mentre quello di un abbonamento annuale singolo di 19,99 euro. Senza dimenticare che grazie a Together Price andrete a eliminare completamente lo stress del recupero delle varie quote che credetemi è un valore aggiunto non indifferente. E inoltre questa per me è una cosa fondamentale. Together Price propone un sistema di feedback che vi fa capire l'affidabilità di ogni singolo utente. Quindi se magari partite prevenuti o semplicemente volete sapere con chi state condividendo l'abbonamento questo è un ottimo strumento per farvi una prima idea da subito. Comunque ragazzi secondo me la possibilità di condividere le spese relative al Nintendo Switch Online o addirittura di ammortizzarle completamente è una cosa ottima. Certo il prezzo è molto più contenuto rispetto a quanto offerto dalla concorrenza come Sony e Microsoft ma so che molti di voi vedono l'online della Switch come una spesa fastidiosa obbligatoria per chi vuole giocare online ma non in grado di offrire un'esperienza che giustifichi il suo costo. Inoltre so che molti di voi sono studenti e non lavorano e in tempi così difficili anche il minimo risparmio ha la sua importanza quindi spero che questa promozione in un modo o nell'altro possa tornarvi utile perché poi non dimenticatevi che Together Price lo potete estendere a tantissimi altri servizi. Comunque oltre al link per partecipare sempre in descrizione vi lascio qualche collegamento che riassume in modo chiaro e preciso tutti i passaggi che già vi ho illustrato per ottenere gratuitamente l'abbonamento a Nintendo Switch Online. E con questo penso di aver detto tutto quello che c'era da dire. Spero che questo video ancora una volta vi sia tornato utile e come al solito vi aspetto nei commenti dove risponderò con piacere a qualsiasi vostra domanda. Io sono il Poro Michele, in condivisione, ciao!